Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Alfonso Signorini è finito al centro di una discussione sui social media riguardo al concorrente del grande fratello, Lorenzo Spolverato. Il conduttore ha pubblicato un video su Instagram con l'hashtag nessuna scusa, che è diventato virale in poche ore, scatenando una polemica tra gli utenti. I follower hanno condiviso il video e commentato sull'ipocrisia di Signorini, visto il comportamento sessista di spolverato all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel video Alfonso Signorini si è dipinto due linee rosse sulla guancia come segno di solidarietà e ha dichiarato «Nessuna scusa, chi tocca una donna, chi non le porta rispetto, zero scusanti». I commenti su Instagram non sono mancati, con molti utenti che hanno criticato l'ipocrisia del conduttore e chiesto azioni concrete per combattere la violenza sulle donne. Il caso di Lorenzo Spolverato, concorrente del grande fratello, ha scatenato una forte reazione da parte del pubblico. Nonostante i continui atteggiamenti aggressivi e sessisti del geffino nei confronti delle compagne di gioco, in particolare Elena Prestes e Shai la gatta, il reality show ha deciso di non eliminarlo, dando così una seconda possibilità al concorrente. Gli spettatori hanno espresso indignazione per il comportamento di spolverato e chiesto una presa di posizione più decisa da parte della produzione del grande fratello. La discussione sui social media è diventata virale, con molti che hanno sottolineato l'importanza di combattere la violenza sulle donne in ogni contesto.